E dopo il nuovo grande campione Yokozuna di Sumo, tocca a lui, il grande campione di Mu-Hai-Tai, BRUCE! Bruce che sono il bio di cognome fa lo storico cognome di un tizio che faceva la formula U, la madonna, la madonna Bruce, è la miseria Bruce, la vogliamo iniziare a fare così proprio? Non c'è problema, Bruce, eh? Se diventi il mio personaggio preferito della vita, Bruce, eh? Double Perfect, 12 secondi, batteremo il record mondiale, è fatta! Non ci sarà più nessuno che ci fermerà Oh, intanto Bruce, non vorrei dire una cavolata, è uno dei personaggi più veloci di Tana, di Tekken, ci siamo capiti due Aia! E' certo! Faccio tutto e dico, belli sti calci Forconi Bassi Che non si abbassa neanche Perché lui fa Mu-Hai-Tai E lui è forte E andiamo avanti per il terzo perfect, sto cazzo Il terzo perfect lo facciamo contro Kazuya, sicuro Sicuro Bravo, Bruce, bravo Non sarai Capillion, però Bruce, tu ci stai dando davvero dentro Aia! Aia! Mamma mia le combo! Mamma mia Bruce! Mamma mia Bruce che siamo sotto il minuto e abbiamo già fatto due round E due round Due battaglie E incredibilmente Paul lo abbiamo già segato Mamma mia Bruce! E che se parenda Dwayne? O magari è lui Il king of Mu-Hai-Tai L'uomo scuro L'uomo pipistrello Aia! Però, sono curioso di una roba Faffanculo, no, no, non sono più curioso Ehi! Beh, bianculo Pronto Adesso mi casca sempre l'occhio di là E non mi fai quel palletto lì Sarebbe assai piaciuto Mamma mia! Bruce in un stop a voi Il video più corto che ci sarà nella storia proprio Round 1 E' bastarda E' certo E' certo è arrivata lei Brava! Oh! Ma sei arrivata davvero ferma! A rompere i coglioni? Primo round perso! Te! Abbassati a droga E' certo che ero imparata E' sì! Signori! Quindi? Che me vuole dire? Ehi! Quella madonna! Ma mi sto zitto! Ah, signori! E' che cacchio! Non si mischi! Non indugi! Per cortesia! Faccia andare avanti il vero King Del King Round 1 Fight! E' del content Muay Thai Verso la gloria E' che cazzo! King Beromu Zairo! Tutti i coglioni tu! Eccalala! Abbiamo trovato pane per i nostri... Uni calci, ginocchiate e gomitate! Certo! Spia di sto... Sto... Mi viene in mente il nome tecnico per descrivere il calcio rotante di Satana! Tipo Devil... Devil Sabato picco! Certo che ero imparato! Come no! Sto... Sto... Pala madonna! Superman Punch che non è un Superman Punch! Oh King! Sei parente di Nino! Sì! Bastardo il calcio... MED! 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 E che cacchio King! Anche ho la forza di un solo pugno! Può portare corrente godimento... Alla mia voglion... 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 Voglionta! Oh love! Incominciamo male! Questa sarà anche la tua legge! Però... A me mi... A me mi... E vaffanculo... Mi hai già rotto il turbo con gli occhi! Te lo faccio dire proprio! Te lo faccio dire proprio! E' Mottima almeno! Non è vero! E vabbè con queste combo di Pio! Aia! Bastardo! In super velocità! Scombattuto! Ma io dovrò vincere! Dovrò eh! E che cacchiolo! Quale legge sono io! Ha forse ripetato in faccia molto velocemente per dire eh! Sono andato allo stage numero otto! Lei chi è? Ah! Si è messo anche... Sembrano in modi! No! Mi dica! Sembrano in modi! No! Bastardo! Io avevo a... A posto... Il piedo davanti per bloccarla però eh! Bisogna rispettare le precedenze! Porca la miseria! Beh! No! E che cacchio! Ha cambiato finalmente cosa! Giustamente! Se non ce la faccio... A... PESCITARLO così! Lo pesto così! Ma questo! E' un posto onesto dove combattere! Lei è stato un tipo molto tosto! Ma la mia strada non finisce qui! Dopo duri anni di allenamenti finalmente sono arrivato qui! Andare contro kazuya dal bel vestito... Viola verde lì quel colore che è insomma! No! Si fermi! Maledetto kazuya! Io avevo promesso un perfect nei suoi controlli! Cosa che non arriverà al suo turno mai! Ma nella vigna proprio! No! No! Eh vabbè! Sì certo! Mi vuoi tirare anche un altro colpo? Tutto caioffo! Mamma mia! Vabbè però! Che io non li prendo con quei colpi lì! Mi tirano un po'... Eh! Ci siamo capiti! Calmo kazuya! Eh! Ti sarebbe piaciuto kazuya! Caro kazuya battuto al primo colpo! Eh 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 Rusty! E' dritti contro il diaolo! Salve diaolo! Trovo sempre bizzarrii i suoi pantaloni... Eh no! Non sono pantaloni! E' lei che è leggermente amata... E' lei che è leggermente fatto proprio frutto così! Doveva andare da un Islamicista a fare aciret! E certo! fastidio questi qua il diaolo non teme vittime non ha assolutamente nessuna porco schifo no godo di catà ok oh ma la strada la battaglia non è ancora finita mamma mia che cappa ho tira 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 lo laser che io vengo un torneo ciao